Ciao bello! Codi! Codino! Codino! Codino è spaventato vero? Povero! Guarda come si guarda con curioso! Che sono! Che sono! Poi il stesso signore è identico. E questo qui... Allora, mi ha detto tre volte al giorno quanti grammi totali? 30 grammi totali? Sì, però se mangia di più, dategliano di più. 30 grammi in... Allora, così. Sì, sì. Ma è bravo, bravo, bravo lui. Bene. Sicuramente. Oddio. Perfetto! No, non l'ho presa bene. Perfetto è pure che c'è anche quell'altra. Ancora, non sa che si chiama Codi? Ma io lo chiamavo già, però... Nel mucchio non penso abbia recitato.